Tantissima gente, siamo molto contenti perché abbiamo scommesso su una zona appunto non centrale ma importante perché la rete commerciale di San Leo è veramente strategica, ci sono tanti commercianti appunto, la nostra base associativa e quindi ConfCommercio scommette anche sulle zone meno centrali della città. Un vero e proprio successo per la prima edizione di San Leo da Vivere, il nuovo evento targato ConfCommercio approdato per la prima volta nella località all'Ordio di Arezzo. E' stata così una serata di shopping, musica, intrattenimento ma anche cene, degustazioni ed animazioni per bambini, un'iniziativa che ha coinvolto infatti le oltre 20 attività commerciali della zona, tutte rimaste aperte sino alle 24 con una ricca proposta di iniziative speciali. Siamo molto contenti, la collaborazione dei commercianti è stata molto attiva e quindi con grande soddisfazione facciamo questa prima edizione che speriamo sia la prima di una lunga serie. Sabato 11 giugno invece sarà la volta di Pescaiola. Abbiamo tanti eventi, Pescaiola, l'arcobaleno d'estate all'Anfiteatro Romano il 20 giugno, shopping sotto le stelle il 2 luglio, quindi davvero un'estate ricca di eventi targati ConfCommercio, con me ci siamo molto contenti.